Ciao a tutti ragazzi e bentornati su credomaiorino.it Oggi vedremo come realizzare una GIF con Gimp, quindi un'immagine animata Inizialmente vi farò un esempio banalissimo con un conto alla rovescia e poi vi farò vedere una GIF creata con delle immagini Allora, andiamo ad aprire subito il necessario Facciamo file, apri come livelli, molto importante e andiamo nella cartelletta GIF che avevo preparato poco fa Ho realizzato questi quadrati da 500 pixel con dei numeri come vedete 1, 2, 3, 4 e 5 che ci serviranno appunto allo scopo del conto alla rovescia Andiamo a selezionare il primo con un click teniamo premuto shift sulla tastiera e facciamo click sull'ultimo file in questo modo, così li selezioniamo tutti Facciamo apri e Gimp li andrà a importare uno dietro l'altro Per realizzare il conto alla rovescia dobbiamo mettere i numeri invertiti quindi dobbiamo salire il primo livello teniamo premuto con il tasto sinistro e lo saliamo in cima e così via per gli altri numeri 1, 2, 3, 4 e 5 così sarà un conto alla rovescia diversamente partiva da 1 fino a 5 perché Gimp ragiona al contrario quindi questa è la prima clip, il 5 e poi va a salire come animazione ora dai filtri abbiamo la possibilità tramite il menu animazione di fare esecuzione per vedere appunto una piccola anteprima della nostra GIF qua lui ragiona però come velocità in per e poi da gli fps per esempio mettiamo 0,25 facciamo click su play e vediamo una piccola anteprima questo ci serve semplicemente per regolarci mentre che stiamo lavorando una volta che abbiamo terminato quindi siamo sicuri del nostro risultato finale facciamo file esporta come sempre qua dentro mettiamo come nome mettiamo conto punto GIF l'estensione è molto importante ragazzi perché praticamente diversamente dovevo fare click qui su tutte le immagini e andare a scegliere l'estensione quindi mettere immagine GIF però una volta che scegliamo tutte le immagini che è solitamente quello mettendo punto GIF gli andiamo a dire a Gimp che stiamo salvando appunto un file GIF facciamo click su esporta e ci si aprirà questo piccolo sotto menu dove andiamo a gestire appunto la nostra immagine GIF come vedete qui c'è commento GIF potrei commentare appunto il file mettendo creato con Gimp ma è del tutto indifferente le due impostazioni importanti anzi le tre sono queste come animazione deve essere spuntato e ciclo perenne in modo tale che il file GIF va in loop e si riproduce sempre di continuo ritardo tra quadri ove non specificato è molto importante perché è la velocità della nostra animazione più alto è questo valore in mille secondi più lenta sarà la nostra animazione in questo caso 800 diciamo che va bene possiamo fare anche con un ritardo di 600 tanto per vedere il conto alla rovescia usa il ritardo inserito sopra per tutti i quadri quindi per tutti i livelli andrà a utilizzare questo ritardo facciamo click su esporta e Gimp già ha creato la nostra GIF quindi la nostra animazione andiamo all'interno della cartella GIF e apriamo conto.gif come vedete abbiamo realizzato la nostra animazione in due secondi praticamente con Gimp ora vi faccio vedere un altro esempio con delle immagini tanto per farvi capire che sostanzialmente potete farlo con qualsiasi tipo di immagine allora chiudiamo questo ctrl w abbandona salta facciamo apri cioè file apri come livelli come poco fa e selezioniamo dalla scrivania queste immagini quindi in questo caso tengo preso control e faccio click sulle altre immagini visto che non sono una dietro l'altra facciamo apri e questa volta appunto abbiamo quattro immagini belle grandi perché sono da 1680 per 1050 anche qui potrei decidere di partire con la spiaggia puoi mettere sunset e così via insomma l'ordine come poco fa non cambia nulla andiamo su stavolta su direttamente su file facciamo esporta come e stavolta la salviamo qua nella scrivania quindi mettiamo foto punto gif diamo un click su esporta e qua la stessa cosa stavolta però alziamo un pochettino il tempo mettiamo 800 mille secondi e facciamo click su esporta ovviamente ci sarà un poco di più perché l'immagine è un pochettino più pesante e andiamo a aprire la nostra immagine come vedete ovviamente viene ottimizzata perché con il formato gif si perdono colori e qualità e abbiamo appunto la nostra immagine niente di più semplice ragazzi volendo poter alzare un pochettino la velocità in modo tale che risultava un pochettino più lenta però era semplicemente per farvi appunto l'esempio con le immagini niente per qualsiasi dubbio qua sotto ci sono i commenti potete scrivermi tranquillamente vi rinvito a seguire il mio canale telegram per non perdervi appunto la news del canale comunque al termine di questo video come sempre troverete appunto l'immagine con i vari social e poi sulla destra del sito c'è sempre il widget con i miei link social va bene ragazzi io vi saluto e ci vediamo sempre su claudemaiorino punto it io vi saluto